Musica Bella ragazzi siamo di nuovo su Need for Speed Non so se l'altra volta avevo già fatto vedere che avevo alzato la qualità del video Era semplicemente scandaloso Vabbè insomma adesso la qualità del video è un po' più alta Ui ui piano 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 Sì sì partiamo Dicevo ho migliorato la qualità video e comunque rimangono stabili gli fps Insomma oh incidente vabbè Quindi tutto sommato va bene Nell'episodio di oggi che penso sia tutto sommato abbastanza corto Vedete passando sui puntini rossi ci danno dei messaggi Il negozio di grafica è situato a nord Ah giusto perché in questo gioco ragazzi ricordatevi I negozi vanno trovati non li sbloccate tutti E quindi molti li dovete trovare voi Comunque adesso andiamo all'auto del concessionario e sceglierete voi Come al solito dato che voi sapete il mio canale è basato sulle vostre richieste Sulle vostre idee Vediamo se lì ci sono dei soldi Perché di solito ci sono nascosti dei soldi Eccoli quanto sono un genio Vabbè capirai 50 Fa niente ci viene Quanti cavalli ha sto mostro Comunque dicevo Scegliete voi Se riesco ad entrare Nella concessionaria l'auto E questo video insomma dura poco Perché ora Sì cosa fa questa Sì Aia Potenza La nostra prima auto Era ora Dove sei stato con la mia auto? A far le gare zia Spero per te che non abbia neanche un graffino No graffino Sam dice che non sei male alla guida Ma non userai la mia auto Compratene una con i tuoi soldi Ti chiamo più Sì vabbè compriamo un'auto con i nostri soldi Allora Potete scegliere Ah stai zitta tu cretina Grazie Bravo Allora potete scegliere tra Peugeot 206 Ford Focus Toyota Corolla Mamma mia che brutta Nissan 240SX Peugeot 106 Peugeot 106 E Opel Corsa Sotto vedete le statistiche Quindi accelerazione, velocità massima e controllo Questa è l'auto di base con cui giocheremo la prima parte del gioco Quindi potete scegliere tra Opel Corsa Peugeot 106 Nissan 240SX Toyota Corolla Ford Focus O Peugeot 206 Scrivetemelo come al solito nei commenti per messaggio privato Per il video di oggi è tutto E basta Ci si vede con i prossimi video Bella raga Arrivedo Ciao 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 Ciao